chiamate a tutelare il nostro paesaggio, altrimenti, sottosegretario, ci ritroveremo quasi certamente di fronte a tutta un'altra serie di ricorsi giudiziari che vedranno il medesimo esito, i cittadini vincenti, terna soccombente e noi qua a ricordare il ruolo del governo che lei rappresenta e il ruolo di quest'Aula dove noi fieramente rappresentiamo il popolo. Grazie. Grazie, onorevole Soria. Siamo all'interpellanza urgente 2, 1368, onorevole Pellegrino ed altri, su iniziative di competenza in relazione al sisma, verificatosi nei pressi di una centrale nucleare slovena, prossima al confine italiano, in particolare alla fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione in ordine al rischio sismico, la sicurezza ambientale. Onorevole Pellegrino, la puoi illustrare? Prego. Grazie, Presidente. Onorevole Sottosegretario, la centrale nucleare slovena di Kirschko, collocata a soli 125 chilometri dal confine italiano, sulle rive del fiume Sava, è entrata in operatività il 15 gennaio del 1983. È stata costruita come joint venture dalla Slovenia e dalla Croazia a quel tempo, entrambe parti della Jugoslavia. È dotata di un reattore ad acqua pressurizzata, Westinghouse, di costruzione canadese, da 696 megawatt elettrici netti, contenente 48,7 tonnellate di combustibile a base di ossido d'ureanio. L'attività della centrale doveva terminare, secondo le prime previsioni, nel 2023, ma è in discussione la possibile espansione dell'impianto con un secondo reattore da 1000 megawatt di potenza, di proprietà interamente slovena. Forse è il caso di ricordare che nel 2012, nonostante il popolo italiano si fosse appena espresso e per la seconda volta contro l'energia nucleare, l'allora Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, propose con arroganza una collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia per il raddoppio della centrale di Kirschko. Uno dei principali problemi della centrale è costituito dalla presenza di incrinature nei generatori di vapore, che determinano perdite continue, tanto che alla fine del 1995 fu deciso di sostituirne due per il grave stato in cui versavano. La centrale ha avuto anche problemi di fughe, con perdite nel circuito primario del sistema di raffreddamento del reattore. Il 4 giugno del 2008, una perdita nel sistema di refrigerazione primario del reattore ha fatto scattare un'allarma internazionale ed attivare la procedura di spegnimento dell'impianto. Il 28 ottobre 2012, la centrale nucleare di Kirschko è stata fermata a causa delle difficoltà generate dall'alto livello del fiume Sava. Ma la preoccupazione maggiore è l'elevato rischio sismico nella zona di Kirschko. Infatti, il sito della centrale nucleare venne scelto nella seconda metà degli anni Settanta senza sapere quasi nulla della geologia locale e senza un'indagine accurata sulla presenza di faglie, sismicamente attive in zona. In poco più di un secolo, la regione di Kirschko è stata sede di un terremoto nel 1880, magnitudo Richter circa 6,3 a 60 km a est di Kirschko, e di un altro nel 1917, magnitudo Richter 5,7 6,2, nelle immediate vicinanze dell'impianto. Terremoti, per capirci, della stessa intensità di quelli che abbiamo conosciuto in Emilia nel 2012. La centrale fu progettata per un'accelerazione sismica bassa e via via che emergevano nuove evidenze di pericolosità sismica per cercare di tacitare le critiche interne e internazionali, specialmente dell'Austria, si è cercato di apportare qualche adeguamento secondario, che comunque non è in grado di migliorare la situazione di grave azzardo sismico. Nel 2007, il Servizio Geologico Nazionale Francese e l'Istituto Nazionale Francese di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare vennero ingaggiati per studiare la parte sismica della progettazione di una nuova centrale, da affiancare a quella in funzione dal 1982. Nel 2013, l'Istituto Nazionale Francese di Sicurezza Nucleare arrivò alla conclusione che il sito non era adatto. Gli insanabili dissidi tecnici sulla valutazione del rischio all'interno del Consorzio franco-sloveno per lo studio di una seconda centrale nucleare portarono l'Istituto Francese di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare ad abbandonare il Consorzio, non senza prima aver ufficialmente espresso le proprie preoccupazioni e aver sollecitato gli enti sloveni a tener conto della gravità dei rischi gravanti sulla centrale esistente, sia per la sicurezza nazionale che per quella internazionale. Così si era espresso l'Istituto Francese di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare. Questa nuova e grave scoperta di una faglia attiva vicina all'impianto non permette di concludere in modo favorevole sull'adeguatezza dei due siti per la costruzione di una nuova centrale nucleare. Questo Istituto Francese di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare considera che è di estrema importanza che le possibili implicazioni di questa capacità di faglia sulla sicurezza dell'impianto esistente, così come la sua potenziale relazione strutturale con altre faglie vicine, sia affrontata senza ritardo, anche in considerazione delle potenziali implicazioni di sicurezza che esso può avere a livello nazionale e internazionale. Queste sono le testuali parole. Intanto la zona continua ad essere interessata da eventi sismici. L'ultimo è del 1 novembre del 2015, con epicentro 26 km della centrale nucleare. L'Agenzia per l'Ambiente slovena ha reso noto che il sisma è stato di magnitudo 4.2. Il Centro Ricerche Sismologiche parla di 4.8. Una scossa di terremoto magnitudo 3.2 della scala Richter è stata registrata anche un mese fa, lo scorso 9 aprile, a 15 km dalla centrale nucleare di Kershko. Nonostante questo, anche recentemente la stampa, ha confermato che la vita operativa della centrale verrà prolungata fino al 2043. Ma la volontà di voler prolungare l'operatività della centrale e anche di raddoppiarla non è un fatto recente. Va ricordato che nel 2012, al 33esimo congresso europeo di sismologia a Mosca, era stato presentato uno studio italiano in cui si calcolava che per la zona di Kershko un terremoto massimo di magnitudio Richter M 7.2, oltre 30 volte più forte del terremoto dell'Emilia del 2012. Autori di questo rapporto erano due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e due docenti dell'Università di Trieste. Nel 2014, gli stessi autori hanno pubblicato su una rivista scientifica un articolo sulla pericolosità sismica dell'area della centrale in questione, in cui veniva spiegato il calcolo della magnitudio di 6.2 e dove venivano proposte le valutazioni sulla pericolosità delle faglie nel sottosuolo della zona, la cui presenza, come ho già detto, era ignota ai progettisti dell'impianto. Lo stesso articolo si sofferma anche sui risultati dei cosiddetti stress test della centrale, calcoli di verifica dei margini di sicurezza, resi noti dal Ministero per l'Ambiente della Repubblica di Slovenia. In particolare, i quattro studiosi italiani affermano che l'unico parametro adottato per le verifiche, scuotimento massimo del suolo espresso come acceleratore con una certa probabilità di occorrenza, è insufficiente per consentire anche a un'equipe di esperti di trarre conclusioni attendibili e concludono che gli stessi così criticabili stress test ammettono tuttavia che la centrale potrebbe subire incidenti e danni assai rilevanti per scuotimenti del terreno compatibile con la situazione sismologica della zona. Parliamo di danni ai sistemi di raffreddamento e perfino al nocciolo. Proprio in considerazione del pericolo incombente proveniente dalla centrale nucleare slovena, i quattro scienziati italiani hanno sentito la necessità di presentare la situazione anche alla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Seracchiani. Nella loro comunicazione i quattro esperti scrivevano che secondo gli stress test, in un momento non prevedibile, la centrale potrebbe venire colpita da un terremoto in grado forse di causare gravi conseguenze. Danni gravi, è virgolettato, comprese lesioni alla piscina, delle barre e blocco dei sistemi di raffreddamento potrebbero venire causati da un terremoto di magnitudo M compatibile con la situazione sismologica della zona oggi nota. A nostro avviso, era la conclusione, sarebbe auspicabile una sensibilizzazione del Governo italiano sull'argomento da parte del Presidente, affinché si giunga una verifica della situazione anche con la partecipazione di esperti italiani. Sottosegretario, Presidente, su questa delicata questione io ho sollecitato più volte attraverso interrogazioni sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ai Ministri degli Esteri, dello Sviluppo e anche all'Ambiente, ma la richiesta che il Governo prenda consapevolezza e posizione nei confronti della Repubblica di Slovenia e che pretenda di essere coinvolto nella valutazione del rischio finora non ha avuto risposta. Nemmeno distanza di ottenere un coordinamento che coinvolga il Governo sloveno e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica è stata accolta e tantomeno quella di rivolgersi alle istituzioni francesi che per prime hanno evidenziato la condizione di rischio per la sicurezza internazionale. Oggi però, Sottosegretario, dovete esprimervi e noi vi chiediamo, il Governo è consapevole della pericolosità sismica dell'area in questione e dei livelli di rischio connessi anche per il nostro Paese e il Governo intende verificare se la Slovenia rispetta i livelli di sicurezza e i limiti imposti dalle più avanzate normative internazionali e ancora non sarebbe opportuno che l'Italia chiedesse di essere coinvolta insieme alle autorità slovene nella valutazione del rischio ambientale. Il Governo intende prendere posizione nei confronti della Repubblica di Slovenia al fine di cooperare con le autorità slovene nella valutazione del rischio ambientale, accogliendo l'istanza di addivenire a un coordinamento tra il Governo sloveno, quello italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Cosa aspetta il nostro Paese ad attivarsi per l'istituzione di una sede di coordinamento tecnico permanente, almeno tra i due Governi e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, al fine di prevedere l'inserimento di esperti italiani nelle commissioni di studio coinvolte nelle valutazioni di Kersko uno e Kersko due. La ringrazio. Sottosegretaria Velo per la tutela del territorio del mare, facoltà di rispondere. Sì, grazie Presidente. La centrale di Kersko, costruita nel 1974 come progetto congiunto degli operatori elettrici della Slovenia e della Croazia sulla base delle normative e degli standard statunitensi, è del tipo ad acqua pressurizzata Westinghouse, con capacità di 696 MW elettrici. L'esercizio della centrale fu avviato nell'agosto dell'82. Nel corso degli anni sono stati attuati i continui miglioramenti dell'impianto secondo gli avanzamenti tecnologici e le prassi derivanti dagli enti di controllo per la sicurezza nucleare. La Slovenia ha ratificato da anni la Convenzione sulla sicurezza nucleare e recepito nella sua legislazione la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea numero 2009.